E qui pensate, devote anime, quello che la regina del mondo rispondesse. Per niente è da dubitare che questa piissima madre, con tutte le sue forze, domandò grazia per tutti gli afflitti e bisognosi, li quali si ritrovano in purgatorio o in questa vita, e amici e inimici e per gli peccatori, e maxime per quelli che devotamente a lei ricorreno. E in madre e l'alba, a cui sempre dirlo, felice dimora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.